La creatività ma se associata al pensiero scientifico. Il discorso è che i tempi di Mad Men sono finiti, non basta essere catchy, svegli, creativi, ma bisogna avere un occhio ai dati per poter misurare i risultati. Ed è questo quello che molte grandi aziende sbagliano nel loro approccio al marketing.